Camera ardente nella sala monumentale dello Stadio Franchi di Firenze, nel ricordo dell'ex calciatore Kurt Amrin scomparso all'età di 89 anni. Oltre alla moglie, ai cinque figli e ai molti parenti giunti dalla Svezia, moltissimi anche i tifosi viola che hanno voluto portare un loro saluto all'ex giocatore che ha segnato in maglia giliata 151 gol e vinto due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Kurt Amrin non solo per me ha rappresentato una generazione di grandi campioni, sono un po' quei miti che ahimè finiscono, è stato da Gigi Riva, ora è arrivato Kurt Amrin solo per citarne due, ma in particolar modo l'Uccellino come veniva denominato, veniva appunto da un paese nordico come la Svezia, ma ha riscaldato i cuori di tanti, ha riscaldato i nostri soprattutto, faccio parte di un'altra generazione, ma c'era grande rapporto con lui, c'è sempre stata cordialità, come penso sia stato con tutti, ha dimostrato di essere al di fuori anche del campo una persona eccezionale che è entrato veramente nella pelle e nei cuori di tanti fiorentini. Kurt è stato un giocatore importante, Abolo ha allenato per quattro anni, credo, una bella fiorentina quella, una buona fiorentina, lui era fantastico, quindi è stato, poi è stato un bel rapporto fra i due, bello perché parlavano non tantissimo, tutte e due è stato un buon rapporto.